E' stata inaugurata la nuova Casa della Salute nel Centro Sociosanitario di San Giovanni Valdarno, per la cui riqualificazione la Regione Toscana ha investito 400.000 euro. Nelle immagini vedete il Presidente della Regione Enrico Rossi all'inaugurazione. Nella Casa della Salute, la quarta del Valdarno e la sedicesima della provincia di Arezzo, sarà possibile prenotare appuntamenti con il medico ed esami diagnostici, effettuare nove diverse vaccinazioni e disporre di percorsi specifici per i pazienti con patologie croniche. Obiettivo? Rafforzare la continuità assistenziale ospedale-territorio. E' una struttura nella quale si trovano insieme medici, specialisti, operatori sanitari. E' un punto di riferimento per i cittadini. E io vorrei sottolineare che i cittadini, sì, è vero, hanno bisogno di ospedali efficienti e funzionanti. Ma la sanità, per la stragrande maggioranza dei cittadini, è sanità sul territorio. I medici di Medicina Generale lavoreranno qui, tutti insieme, garantiranno la loro presenza continuativa per dieci ore il giorno. Ci sarà anche la postazione della guardia medica, il punto prelievi, l'attività di prenotare le visite specialistiche successive. Quindi un insieme di servizi per garantire la presa in carico complessiva dei cittadini. La riqualificazione finanziata dalla Regione ha permesso di rinnovare gli impianti di climatizzazione estiva, il cablaggio delle reti dati e di ricavare un'area libera per le cure primarie, tre ambulatori, punto prelievi, due ambulatori per le medicazioni e tre locali per l'organizzazione dell'assistenza domiciliare. Grazie a tutti.